Il 60% dei comuni marchigiani ha superato nel 2017 l'obiettivo fissato dalla normativa nazionale del 65% di raccolta differenziata. È quanto emerge dal nono rapporto rifiuti pubblicato sul sito della Regione per l'anno 2017. Marche Regione Virtuosa, commenta l'assessore all'ambiente Angelo Sciapichetti, l'impegno profuso da 138 comuni ha permesso il continuo innalzamento della raccolta differenziata regionale che ha raggiunto il 65,56% dato tra i migliori in Italia. In tutte le province la percentuale cresce, Macerata con il 73,58%, Ancona con il 65,60%, Pesaro e Urbino con il 65,17%, Ascoli Piceno con il 60,06% e Fermo con il 58,54%. Nel 2017 ogni cittadino marchigiano ha contribuito alla raccolta differenziata conferendo 518 kg di rifiuti urbani che, sommati a rifiuti raccolti in modo indifferenziato, concorrono alla produzione totale pari a 797.279 tonnellate, un aumento in linea con l'andamento nazionale degli ultimi due anni.